Cos'è? C'è sciopera oggi? No Allora cosa fai qui a quest'ora? Ti senti male? No Cosa fai? Mangi i dolci? E' mica domenica No, è lunedì Mi piacerebbe di sapere cosa ti succede E' il mio compleanno E mi sono comprato le paste Se non mi festeggia nessuno, mi festeggio da solo Ho le paste senza lavorare Però ne potresti offrire una a tuo padre Ti sei fatto licenziare? Festeggia il suo compleanno Il compleanno è una scusa Oggi, 2 febbraio, l'assenteismo è entrato in casa Bronzi L'esempio viene da quelli del sud Loro festeggiano tutto, anche il lunedì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti